Mobilitazione a Gela al fine di raccogliere 10.000 firme e chiedere l'apertura immediata dell'unità complessa di senologia Brest Unit all'ospedale Vittorio Emanuele. Si trarà domenica dalle 8 dinanzi al presidio ospedaliero di Via Palazzi, un vero e proprio forum urbano. Saranno presenti tutte le associazioni della città coinvolte da Cantiere Gela e Ados. Hanno dato la loro adesione anche le sigle sindacali e alcuni movimenti politici. Tutti insieme per invocare l'apertura dell'unità di senologia complessa. Al Vittorio Emanuele di Gela è attivo da anni un centro di senologia che rappresenta uno spazio avanzato di prevenzione e cura del tumore al seno. Il centro opera da anni pazienti affetti da patologie tumurali provenienti da tutta la Sicilia e dal meridione d'Italia e si colloca tra i primi reparti operanti nell'isola come numero di interventi e ciò grazie all'abbregazione dei medici del reparto e dell'associazione di volontariato. La regione siciliana lo scorso gennaio ha approvato l'atto aziendale dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta in cui era prevista tra l'altro l'istituzione della Brast Unit. Ma adesso per la mancanza di fondi regionali non ci sono soldi per coprire le spese per la sua realizzazione. La mancata apertura del centro specializzato comporterebbe un danno per la salute delle persone in una realtà dove la patologia tumorale ha percentuali di presenza alta in un territorio peraltro che presenta rischi ambientali critici. La raccolta firme continuerà anche nei prossimi giorni in vari punti della città e del territorio siciliano. Un incontro urgente con il manager dell'azienda di Caltanissetta, Cremelo Iacono, è stato chiesto intanto da CGL Cisle Will al fine di conoscere ed affrontare le criticità che tutti i presidi ospedalieri della provincia di Sena stanno attraversando. Ora, maggior ragione in merito ai tagli previsti, proprio qualche settimana dietro l'assessore regionale alla sanità, Baldo Gucciardi, ricordano le sigle sindacali, aveva assicurato che non ci sarebbe stato alcun taglio. E invece CGL Cisle Will rivendicano chiarezza da parte della politica e unità di metodo per raggiungere gli obiettivi. Mentre la povertà reale aumenta, il governo regionale complica la vita ai cittadini, purtroppo.